Allora ragazzi, allora oggi ho portato un altro contenuto diverso sullo tablet, in un gioco molto sclerotico Guardatevelo tutto e ho portato questo video perchè non abbiamo raggiunto i 15 like come richiesto e non ho portato i geometri dash E quindi guardatevelo il video è bella Ciao ragazzi sono Già mi conto di me è un bellissimo video Sto mangiando lo so ma ho fame Allora Ehm Oggi siamo tornati in questo bellissimo video Ehm Jetpack Joyride Una cosa del genere Ehm Un gioco molto cretino che l'ho scaricato sul tablet perchè io registro anche da qui E poi adesso toccano lo schermo da 3 anni E Oddio Oddio mi sento Mario Bros Vabbè ehm Consiste nel Buono schivare queste cose Prendere le monete E farsi una vita Vabbè Ovviamente ogni volta che perdo sclero Quindi state montate Oh 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 no Lo voglio Il Mr.Coloro È il Drago Sharon Yeah Ma si può Porca Come fai Ma what the fuck Allora Cominiamo subito Olè Un gioco abbastanza sclerotico Io ci gioco Oddio Che c'è sta cosa Oh 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 Eh Oddio è sclerotico Che è? Che succede se vai? No Ma anche ne sapevo Vai fermiamo Vai Vediamo Voglio grazie Mamma mia Ragazzi Io passo il tempo Con questi giochi stupidi Vabbè Ricominciamo E Niente Vai Subito Incredibile Ma perché Io non sapevo che Non sapevo che Allora No Ancora Oddio What the fuck Vabbè Mori Che brutta cosa Oddio posso Fatti Pogna Ok Vai 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 Prendi quel Cosa Gettone slot Che caspita Ah ho capito Lo slot Quello delle macchinette Tipo che gioco Porca No Dai Porca Puzzana Puzzana Non è Vabbè Vai vediamo Cosa troviamo Olè Grazie 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 Ok Cos'è Se questo gioco Vi piace Posso portarvi Comunque Regalo Ho detto Mille iscritti Mettalo Qui Scamini Mostro E voi pensate Tipo Di te lo scrivo C'è un mongoloide Più o meno Ho un viso Da mongolo Diciamo E Già Vallo Spare ho un ciuffo biondo Quindi immaginate Il mio stato Porca trota Bastardo All'inizio del video Mentre facevo l'indro Stavo mangiando Panno e cioccolato Lasciuto il pane e cioccolato Comunque Comunque Lasciamo stare Comunque Un gioco molto carino Che posso portare Però Che cacchio Non l'ho mai visto Che cacchio Che era lei Se Ah qua Come Trota Porca Venga ho rotto Il mobile Di mia nonna Vabbè Scialla 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 Dai Vediamo cosa ho Olè E olè Ma una cacata Pazzesca voglio Allora 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 Io Faccio Farò come un video Allora Ho detto che è un tablet Non è come dire Che lo posso trasportare Non c'è Non lo posso trasportare Questo lo posso trasportare Mi posso anche alzare E prendere la sedima E romperla Comunque la posso Allora Intanto Regà Dovevo cercare di battle record Oh Eva 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 E Mamma come volevi Prendi quel co Che cacchio No Trapani Una squadra di serie B Saci Schida Stavolta Non mi arrabbio Perché Scialla Però la prossima volta Butto la sedia Perché sta cosa E lo sglo Allora Infatti È una di quelle sedie Pieghevoli Boh Ok È una sedia arancione Molto figa Quindi tra un po' La spacco E Regà Più sono tante di quelle botte Che io quando mi sito Ho veramente lo stimolo Di cadere Che che è sta cosa Che Cos'è Che cos'è Regà Ma si può Vabbè è buono però Molto buono Oh Che cacchio è Sfiora la collisione Ah Oh No Guarda Questa è cosa Che mi fa morire male No Ancora Che era Quello Un gettone Un gettone Vabbè Consigliatemi Qualche gioco Perché tanto È una memoria Incredibile Oh No Aia Mi è arrivata Anche addosso Quasi Però Vediamo Oddio C'è stop Mamma mia Vediamo Slot opening Oh Piccolo scoppio Mamma mia Che mi è stato Mario Bro Regà Vi giuro che adesso Se perdo Grido Grido tantissimo Tappo Mi piace Magari una mini serie Di due o tre episodi Così Faccio un indrattitimento Lo porto magari Quando non so Cosa portare Quindi Quindi questo Oggi sto portando Sono già tre video Che registo Ma mi spieghi Solo perché io parlo Yeah Solo perché io parlo Ah Allora ragazzi Questo è l'ultimo Perché mi sto Praticamente Boh Dai E 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 dai Ok Madonna che bug Non è passato attraverso E se morivo Praticamente Pensavo che Cioè Penso che se morivo Dopo aver usato questa cosa Oh La odio sta cosa Muoio solo qua Oh Mi culo Che è sta cosa Un gettone slot Oh prendilo Grande Superarma micidiale Che è questa cosa Cos'è Cos'è No guaglio Ma che è Merde Unfami Sto esplodendo Ok Ok Esploso male Ok Sono ritornato Il mini cicciolo Ancora questo Mister Non so come si usa Ah ok Forse ho capito Points Ah grazie Voglio Due gettone slot Buono come il pane No Che caspita Un altro gettone Lo voglio Reslo Ok No pensavo di morire Perché poi Oh Oddio Non sono mai arrivato qua No Madora Madonna Mi faccio la mossa di Giorzina Sulla sedia Qualcamente Allora Dato che è l'ultimo Adesso ci apriamo Questi tre cosi Olè 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 Oh Olè Ok Va bene Va bene Ok Sono una matricola Incredibile Ok Allora Eh Ditemi se Oddio Vabbè Ditemi se Vi può piacere Questo gioco Come intrattenimento Magari Una volta Ogni tanto Oppure consigliatemi sotto Nei commenti Qualc'altro gioco In un altro gioco Qualc'altro gioco E cosa posso dire Di che Per questo video è tutto Vi ricordo di lasciare un mi piace Scrivete questo video Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Un prossimo video Comunque Comunque Ve lo ripeto Perché Perché Ho detto anche Nello scorso video Che ho fatto un video Vlog E E quindi questo Vi ricordo Se vi è piaciuto questo video Dovete lasciare Almeno 4 mi piace Stavo Stavo facendo cadere Il tablet 4 mi piace E se li superiamo Siete dei grandi Iscrivetevi al canale Ripeto E niente E voglio dirvi una cosa Dovete lasciare Il 5 mi piace Solo per questo Guardate Sentite Allora Va bene Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao